Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio con la variante di Vali con la Quercia e Badia, siamo sul versante Emiliano della Direttissima e tra Firenze Sud e in Cisareggello. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara, in direzione Rosignano. Un chilometro di coda alla barriera di Rosignano, in direzione Sud. Sulla A15, due chilometri di coda per il traffico intenso tra Ulla e l'allacciamento con la 12, in direzione La Spezia. Un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto, in direzione Parma. Muoversi in Toscana, è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!